Entro l'autunno saranno completati i lavori di due dei tre lotti che rientrano nel progetto di messa in sicurezza delle autostrade a 24 e a 25 e messo in campo da strada dei parchi. Il tratto interessato è quello tra Torni in parte e l'Aquila Ovest. Sono 5 su 8 i viadotti che riapriranno. A fare il punto è direttamente la concessionaria. I lavori estivi si stanno concentrando in particolare su tre lotti tra Torni in parte e l'Aquila Ovest. Lo scorso mese strada dei parchi ha terminato una carreggiata su tre viadotti nell'otto più in alta quota che è vicino a Torni in parte. Nei lotti a valle, quello più vicino all'abitato di Gensano di Sassa e quello dopo verso l'Aquila, i veicoli di fatto già stanno utilizzando la nuova carreggiata antisismica. Qui si stanno completando i lavori nella seconda carreggiata. Quando quest'ultima sarà terminata sarà in pratica smontato il cantiere e sarà riaperto interamente il tratto più vicino all'Aquila con doppia carreggiata. Da strada dei parchi confermano come fine dei lavori l'autunno prossimo. Per i viadotti invece di Santonofre e Gensano nessun problema. Sono terminati e riaperti da tempo. Strada dei parchi fa sapere che se non fossero subentrati tutti i noti problemi con la revoca e il subentro di Anas, i lavori sarebbero terminati molto prima. Per quel che riguarda l'area di Avezzano sulla 25 e dell'Aquila Ovest sulla 24, dalle 22 di oggi invece alle 5 di domani e dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì è disposta la temporanea interruzione della circolazione in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Magliano e Avezzano e tra gli svincoli di Torni in parte e l'Aquila Ovest, una disposizione che è stata varata per consentire il transito di trasporto eccezionale, veicoli che viaggeranno con opportuna scorta e per il tempo limitato del passaggio per consentire che tutto si svolga in sicurezza.